Ciao ragazzi siamo su Planet Seed 2, di nuovo siamo qua, andiamo, andiamo a prendere un veicolo. Questo qua. Vediamo che brutta fine che farò oggi. Vediamo. 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 Quello. Oh. Vediamo. Let's go. Vediamo. Vediamo. C'è il suo. è dove l'uscita dove l'uscita 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 Cosa che abbiamo frieavale? a 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